Si è tenuto anche quest'anno l'appuntamento con il Jeep Experience Moab 2015, l'emozionante evento organizzato dal marchio statunitense Jeep nello Utah, alla scoperta delle magiche atmosfere del Canyonland. 15 Cherokee sono state protagonisti di un viaggio di tre giorni attraverso l'Old Spanish Trail, lo storico tratto commerciale tra Santa Fe e Los Angeles, diventato poi la via dei cercatori d'oro e argento diretti verso Ovest. Famosa per il suo innato DNA off-road, Jeep Cherokee oggi unisce le sue leggendarie capacità 4x4 ad un design contemporaneo e filante, con una dotazione tecnologica composta da oltre 70 sistemi di sicurezza alla guida.